Grazie. Oh perché non è possibile. Vai Andrò. Via. Vai Marcello. Porta. Io provavo. Via. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla fine credo che il parigio sia un risultato giusto, anche se nel computo dell'intensità credo che noi forse siamo stati superiori. Comunque onore al parigio e complimenti al numero 5, mi sfugge il nome del parigio, ma è un ragazzo veramente interessante. Mister, per le assenze di Cerullo e De Martino cosa ci può dire? Sono due giocatori che stanno, Cerullo per squalifica e De Martino sta riprendendo, ha avuto un problemino al ginucchio, quindi di conseguenza però i ragazzi che sono stati chiamati a sostituire, secondo me hanno fatto un'ottima partita e non l'hanno fatto in piaccia. Noi giochiamo partita per partita, sicuramente ci interessano i punti per la salvezza, poi dopo se saremo là a guardare sicuramente non ci diremo indietro. Sono arrivato a Piscinolo dall'anno scorso, già avevo trovato un grandissimo gruppo, mi sono integrato bene e siamo qui, dall'anno scorso abbiamo vinto il campionato, continuiamo ad andare bene con la stessa forza di due anni fa. Il lavoro è di tutti i presidenti, dei mister, tutti compresi, dal massaggiatore, magazziniere, tutti compresi, tutto lo sto. Grazie a tutti.